Io sono Alberto Fabri, sono il contitolare dell'azienda Il Poggiolino. Noi abbiamo dei collaboratori e delle maestranze che sono con noi da oltre 40 anni e quindi tantissima esperienza che è fondamentale. Altamente formati, quindi la conoscenza che è altrettanto importante e poi fondamentalmente la passione da parte di tutti nel fare un lavoro che richiede quotidianamente una passione totale da dedicare alla vigna, alla cantina e al vino. Questa può essere il cappello e l'ombrello della filosofia. Strade belle anche quando non sono asfaltate ma le strade del Chianti sono tutte belle, sono tutte... veramente il senso di pace e di serenità che si ha quando si percorrono queste strade è assolutamente straordinario e questo insomma tutto sommato credo che sia per noi una fortuna poter percorrere queste strade tutti i giorni.